Favorita la scuderia nei confronti di Rapida Jet e Rio della Luna, intanto ha sbagliato Rodos, macchina che accelera e lascia andare i concorrenti, veloce Rapida Jet, cerca di conquistare il comando, all'interno c'è Rubensgrad, mentre a largo insiste Renania, primi 200 in 14-3, con Rapida Jet che conduce, Renania all'esterno, a contatto c'è Rubensgrad, intanto il quarto iniziale se ne va in 28-9, 28-9 per i primi 400 di gara, con in vantaggio quindi Rapida Jet su Rubensgrad, all'esterno rimane Renania, posizione all'esterno anche per Ragna de Gloria, poi in corda in terza posizione figura Rasputin, a largo sono anche Risk BF e quindi Rio della Luna, i 600 in 45-4, con Rapida Jet che continua a condurre tranquillamente, completa il mezzo miglio, in 1-2 esatto, in seconda posizione si mantiene Rubensgrad, all'esterno Renania, mentre in terza ruota tenta ora la progressione Ragna de Gloria, cavalli al chilometro, completato nell'ordine dell'1, 17 secco, anche Rio della Luna cerca di avanzare, intanto siamo a 500 scarsi dalla conclusione, la squalifica per Rodos, Rapida Jet allunga sotto la progressione di Ragna de Gloria, insiste dal suo esterno, terza ruota invece per Rio della Luna, a contatto rimane alla corda Rubensgrad, completamento della curva finale, ingresso in retta di arrivo, con Rapida Jet che si presenta in vantaggio, calato intanto Ragna de Gloria, ci prova a centropista Rio della Luna che va su Rapida Jet, un po' in difficoltà nel finale, ma c'è anche lo sprint a centropista da parte di Rublo dei Greppi, ultime battute con Rio della Luna che passa e vince, secondo posto per Rublo dei Greppi che ha ragione sul palo di Rapida Jet, 2-1 e mezzo con 29-9 a chiudere, Enrico Bellei subito a segno con Rio della Luna che scatta ai 500 finali, si fa l'ultima curva in terza ruota, in retta d'arrivo, viene a battere Rapida Jet e a controllare il buon finale di Rublo dei Greppi, confermando così l'ottima ultima prestazione, Rio della Luna a segno, Enrico Bellei in sediolo, andiamo a rivedere le fasi finali, successo netto sul traguardo, una lunghezza di margine su Rublo dei Greppi che proprio sul palo piega Rapida Jet.